E allora siamo in compagnia di Matteo Colangelo del Club Olimpico Romano. Oggi il Club Olimpico Romano ha compiuto l'impresa perché avete vinto contro la Juventus, accedete alle finali di domani di questo torneo Memorial Emilio della Penna, questa decima edizione per la categoria 2014. Come è andata la partita? Come avete fatto a vincere con la Juve? Era stata dura all'inizio, era una squadra pure forte la Juventus, ma il mister ci ha dato una svegliata e abbiamo fatto benissimo. Avete reagito grazie anche al mister, avete ribaltato il risultato perché stavate perdendo, poi 2-1 per voi, tra l'altro forse un gol è tuo, forse no, tu hai battuto il calcio di punizione e bisognerebbe capire se è stato deviato oppure no. No, poi la Juve ha trovato il gol all'ultimo portando la partita ai rigori e ai rigori avete vinto e quindi domani vi giocate la finale, vi giocate potenzialmente il titolo. Com'è andata fino a questo momento questa esperienza? Vi state divertendo? Sì, è molto divertente. Sei emozionato? Sì, molto. Non capita tutti i giorni di battere la Juve, ti faccio ora delle domande un po' più semplici. In che ruolo giochi? Centrale di difesa. Ok, centrale di difesa. Allora qual è il giocatore al quale ti ispiri nel tuo ruolo? Il giocatore al quale prendi esempio, spunto, in quale magari vorresti un giorno giocare o diventare forte quanto lui? Sì, veramente non c'era un centrale di difesa preferito, ma ce l'ho a caso perché la mia squadra preferita è Napoli-Rakmani. Ok, va bene. Allora grazie ancora Matteo, intanto ti faccio anche gli auguri perché è anche il tuo compleanno, non solo di Pasqua, quindi auguri a tutti i tifosi, bravi congratulazioni a tutti i compagni, auguri a te di compleanno, un saluto a tutti quanti e domani le finali vi le giocate. Ciao! Ciao!